Ciao, io sono Mila e il mio animale magico Morphle può trasformarsi in qualunque cosa! Morphle! Andiamo! Adesso devo andare a fare una cosa importante, Morphle! Morphle, viene! Mi spiace, ma è un segreto, perciò tu devi rimanere qui! Sta tranquillo, sarò di ritorno molto presto! Mila! Ciao, ciao, Morphle! Oh! Che cos'hai, Morphle? Dov'è Mila? Non lo so, ma vedrai che tornerà presto! Morphle, trasforma! Mila! Mila! Oh, ciao, Morphle! Ma cosa ti succede? Mila, con voi? No, qui non c'è, mi dispiace! Morphle, trasforma! Mila, con te! Che cosa? Mila non è qui, mi spiace, mettimi giù, Morphle! Mila, con voi! Cosa? No, Morphle, Mila non è con noi! Mila, con te! No, Morphle, ma sono sicuro che sarà da queste parti! Dov'è Mila? Morphle sta piangendo? Non nella mia città! Avanti, Morphle, asciugati le lacrime! Mila t'aspetta a casa, sali a bordo! Non disperarti, Morphle! Non hai ancora controllato sul retro! Sorpresa! Mila! Volevo organizzare una festa per ringraziarti di essere un animale magico così fantastico! Ogni giornata diventa un giorno magico con un animale magico e tanti buoni amici! Evviva! È prima! Morphle, trasformati in una palla! Io vorrei tanto poterli trasformare anch'io! Ho avuto una grande idea! Glitterpod ci può trasformare in animali magici! Puoi farci diventare dei Morphle! Facciamo un bel gioco! Chi riesce a rimalzare più in alto avvito? Trasforma in Morphle! Che cosa? No! Grande! Trasforma elicottero! Morphle vince! Ma quello è il signor Wanderbuss! Oh no! Qui finisce male! Seguiamola! A terra, April! Ho paura che non sia... Ho fatto facile! Oh no! Ha colpito la gru! Trasforma palla e rimbalza! Morphle è in salvo! Ma la gru continua a oscillare! Non preoccupatevi, ragazzi! Ci sono qua io! Presto, Morphle! Trasformati in un aeroplano! Oh no! Adesso mi voglio trasformare in un robot! Ho un'altra grande idea per prenderli! Facciamo un lavoro di squadra! Fermi voi due! Oh no! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Avete combinato un sacco di guai in giro per la città! Mi spiace, Mila e Morphle! Non voglio più essere un animale magico! Puoi farmi tornare me stessa? Ti prego, Glitterpod! Oh no! Accidenti! Mi stavo divertendo così tanto! Già, anch'io! Ma essere Morphle è una cosa davvero difficile! Sono felice di essere di nuovo io! È molto meglio che ci sia solo un Morphle e una April! E io voglio bene a entrambi! Mila! Morphle! Ha chiamato il guardiano! Ha detto che gli serve il vostro aiuto allo zoo! D'accordo, papà! Morphle, trasformati in una casa volante! Mila, Morphle, eccovi! Mi serve una mano! Potreste aiutarmi a portare il pinguino, il dromedario e la scimmia alle loro case in natura? Certo! Grazie! Prendiamo tutti a bordo di Morphle la casa volante! Il deserto è caldo e secco! Sarà la casa perfetta per un dromedario! Morphle, guarda! Quello è un draghetto! Io penso che tu voglia venire con noi! Troveremo la casa più adatta anche per lui, vero, Morphle? Certo! Il polo sud è la casa perfetta per un pinguino! Ma di sicuro è troppo freddo per un draghetto! D'accordo, vogliamo verso un altro posto! La foresta pluviale è la casa perfetta per una scimmia! Oh oh! Ma ho paura che sia un ambiente troppo umido per un draghetto! Non è affatto facile trovare la casa giusta per un drago! Ma tranquillo, non ci arrendiamo! Guarda, Morphle! Questo è un vulcano! Direi che è proprio la casa perfetta per il nostro amico! E bravo, piccolo! Mi sembri molto felice nella tua nuova casa! Ma adesso è ora che io e Morphle torniamo alla nostra! Ciao, ciao! Draghetto! Adesso ho capito! Tu sei un animale magico! E non è importanza dove sia nato un animale magico! Si sentirà a disagio senza il suo compagno umano vicino! Ma io posseggo già un animale magico! Morphle! Però so dove potrei trovare il tuo compagno per la vita! Al centro animali magici potete vivere magici incontri tutti i giorni! Ciao, Mila e... Morphle! Purtroppo ho preso l'influenza! E non riesco a svolgere il mio lavoro! Possiamo aiutarla noi, signor Joe! Noi, aiuta! Oh, questi veicoli devono essere consegnati ai loro proprietari! In officina o... Ecco, ho questa lista! Oh, oh! I nomi dei proprietari dei veicoli sono macchiati di grasso! Ma penso che riuscirò a scoprire di chi si tratta! Morphle, trasformati in un grande autocarro rosso! Penso che il trattore debba essere portato all'agente Freeze! Un agente che va in trattore? Io seguo le indicazioni della lista! Va bene! Ma... Ma questo... Mi spiace molto, agente Freeze! Ma siamo di fretta! Scusi tanto! Non l'avevo proprio visto! Ciao, ciao, Manny! Così è impossibile! Non così in fretta! Oh, no! Ho paura che abbiamo sbagliato, Morphle! Trasformati in un'auto della polizia! Morphle, li prende! E ora riportiamo tutti i veicoli ai loro giusti proprietari! Io penso che il trattore appartenga a... Il pompiere Bob! Il camion di gelati deve appartenere a Geraldo! Sì! Allora, Mille e Morphle, l'avete fatto? Tutti i veicoli sono consegnati, signor Joe! Oh, bravissimi! La mia lista vi è stata di aiuto? Insomma! Guarda, Morphle! Si fa così! Morphle, prova! Morphle, prova! Non preoccuparti! Prima o poi ci riuscirai! Ma mai tanto bene quanto questo piccoletto! Lui è Boba, il nostro nuovo animale magico! Boba adora fare le bolle! Le bolle lo fanno ribollire di gioia! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Visto? Sembra divertente! Wee! Boba? Siamo un po' troppo in alto! Siamo in trappola! Morphle, trasformati in qualcosa di grande! Oh! Ah! Autocarro! Oh! 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 Adesso Morphle salva Mila! Mi... Mila! Oh! Oh! Cosa sta succedendo qua? Eh? Aiuto! Voglio scendere! Morphle, aiuta! Woohoo! Oh, no! C'è un carro attrezzi che piove dal cielo! Oh, wow! Oh? Ah? Ah, 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 ah! Eccoti qua, Boba! Senti, non puoi seminare le tue bolle magiche dappertutto! Stanno causando un sacco di problemi! Papà! Morphle, fai scoppiare la mia bolla! Oh! 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 Oh, oh! 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 Mila! Mi hai salvata! Grazie mille, Morphle! Sì! Un attimo! Con l'auto fuori dalla bolla mi è sbollita tutta quanta la rabbia! Bene, Boba! Se mi combini è ancora guai! Ricordati che ti rimetterò io in bolla! Oh no! Morphle! So come farti tornare allegro! La mia invenzione è conclusa! Ho creato il siero della giovinezza che adesso testerò sul mio assistente! Oh! Quanto è carino! Io non so come prendermi cura di... di una lattante! Devi portarla subito da suo padre mentre io creo l'antidoto per rimediare! Mila! Papi! Papi! Mila non piange! Mila ha fame! Mila! 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 Dai, vieni fuori! Dai! Salta, bello! Oh! 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 Oh-oh! 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 Oh-oh ok! Oh! Oh-oh! Ehi, Morphle, sono tanto felice di vederti Ho fatto un sogno stranissimo Ho sognato che ero una bimba piccola Non lo trovi, Bufo? Eccole qua, i due piccoli robot che avete ordinato Eccellente! A chi servono? Oh, ecco! A niente! Grazie! Addio! Hai portato l'occorrente? Sì, ovvio! Perfetto! Oh, guarda! Questi sono i due banditi! Questi sono i due banditi? No! Psst! Morphle! Mila? Ma dov'è palla? Lascia perdere la palla! Muoviamoci! Avanti! Vieni via con me! Va bene! Morphle, ti va di giocare a un altro gioco? No! D'accordo! Allora torniamo a casa? No! Ehm... Allora hai tu qualche altra idea? No! Morphle, prendi i due gelati! Mila, non paga! Mila! Ti stai comportando in modo molto strano, Morphle! Non vuoi neanche trasformarti! No! Non sai dire altro che no, no, no! Papà, Morphle non è più lui! Piano, Mila! Non è una cosa carina da dire! Ehi, Morphle! Ti andrebbe un bel cono gelato? No! Non vuoi il gelato? Che c'è che non va? Cosa? Visto! Questo coso non è il mio Morphle! I banditi! Morphle, porta via quella palla! Morphle, porta via quella palla! Ehi! Papà, da quella parte! Oh no! Arriva il papà di Mila! Ciao, Mila! Che stai facendo? Ehm... Cose da ragazze! Oh! Morphle, dai, vieni qui! Bene, allora... Divertiti! Ciao, ciao, Mila! Ciao, papà! E adesso riprendiamo a fare dispetti! Morphle? Imbratta il muro! No! Dammi! Trasformati in una... Auto della polizia! No! Camion dei pompieri! No! Un elefante, allora... No! Accidentaccio! Non funziona! Signor specchio, ci potrebbe mostrare che cosa sta succedendo a specchiolandia? Lo faccio con molto piacere, cara Mila! Morphol ama specchiolandia! Orphol! No, 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 Morphol! Rimettilo dentro di me! Quello è Orphol e a specchiolandia tutto è l'esatto contrario di ciò che è nel nostro mondo! E dato che Morphol è molto gentile, temo che quell'Orphol non vorrà compiere altro che cattive azioni! È probabile! E quindi non possiamo lasciarlo girare per la città a combinare i guai! Dai, Morphol, giochiamo con Croma! È molto meglio! Salve, Morphol! Dimmi, come stai? Oh! Agente polizia a tetto! Che cosa stai facendo? Morphol! Morphol! Non puoi abbandonarmi qui? Sembra che qualcuno ti stia chiamando, Morphol! Ecco di là, Morphol! Ora tirami immediatamente giù di qua! Grazie, ma ricorda che non mi piacciono questi sciocchi scherzi! Scherzi? No, 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 no! Sei stato tu che mi hai messo in cima al tetto e adesso neghi? Ma Morphol è stato insieme a noi per tutto il tempo! No, lui mi ha piazzato sul tetto e sghignazzava come un matto! Così! Oh, no! È la risatta di Orphol! Dobbiamo trovarlo! Oh! Oh! Cosa stai combinando, Morphol? Destruisci una torre? Cosa? Ehi, ma che ti succede? Non è divertente, Morphol! Ma se questo è Morphol, chi è quello? Orphol! Che cosa non è meglio da me? Da dove sei venuto? Chi è che vince? E chi è il vero Morphol? Dobbiamo fare in modo che Orphol non possa più farsi scambiare per Morphol! Croma! Fallo diventare verde! Orphol verde! Spero che ora se ne torni a Specchiolandia! E siete divertiti alla fiera, Mila e Morphol? E come? E non vedo l'ora di giocare a fare il tè con la bambola gigante che ho vinto! Bambola gigante non vuole bere tè! Sai che cosa ti dico? Rendiamo magica questa giornata! E Mimi, potresti dare vita alla nostra amica! Così potrà giocare davvero con noi! Oh, ciao, Mary! Ciao, Luis! Mi serve un animale magico per spostare del materiale pesante! Potresti aiutarmi? E Mimi potrebbe dargli vita! Così si sposterà da solo! Sarebbe grandioso! Ci vediamo dopo, Mila e Morphol! Ciao, ciao! Oh no, bambola gigante! Quelli sono degli animali magici! Lasciali giù! Trasformati in una palla! Oh oh! Ho paura che darle vita non sia stata una gran buona idea! Portiamola dai Mimi, così la farà tornare di nuovo una bambola! Oh no! Smettila subito! Farai male al signor Vanderbuss e a Barchi! Morphol, trasformati in un aquilone e attirala lontana dall'auto! Oh no! Fermati immediatamente! Quello non è un vero gelato! Oh no! Il mio furgone! Scusa, Geraldo! Ti prometto che te lo ripareremo! Morphol, trasformati in un autotarro e porta qui la piccola! Morphol trasforma! Ragazzi, ho un'idea! La faccio addormentare con una ninna nanna! Brilla, brilla la stellina su nel cielo piccolina! Sta dormendo, Morphol! E Mimi! Puoi far tornare la bambola normale, per favore? Piccola peste svegliata! Ti prego, in fretta, Mimi! Mila, che cosa succede? Scusa, papino! La prossima volta giocheremo a fare il tè senza dar vita ad alcun giocattolo! Ogni giorno è magico comunque col mio animale magico! Oh no! 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 Guarda, Morphol! Tutti i colori sono spariti! No! Morphol, trasformati in un pennello magico! Oh no! Morphol, l'erba non è blu! È verde! Oh! Oh no! 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 Bravo, Morphol! Dove crede di andare? Avevo io il semaforo verde! No, il verde ce l'avevo io! Cioè... Vieni, ecco! Allora sei tu che stai facendo sparire tutti quanti i colori dalla città! Non è una bella azione! Un mondo senza colori è veramente triste! Oh! Ah! Oh! Tigre allegra! Sì, così è proprio buffa! Dipingiamo altri animali con questi bei colori! Sì! Ecco, Tigroma! Ti stavo giusto cercando! Ci sono un sacco di problemi in città! Perché tu hai portato via i colori? Morphol può aiutare Croma a ridipingere tutte le cose con il loro colore originale! In effetti, sembra che lei abbia ragione! Prego, fassi pure! Ottimo! Avete risolto tutti i problemi della città in un baleno! Morphol e Croma, siete davvero una grande squadra! Sì! Ehi, ciao, cucciolotto! È strano pensare che un giorno sarai grande e spaventoso! Con questo zapper che abbiamo rubato alla professoressa Paula possiamo trasformare tutti gli animali in giganti! Vedrai che oggi ci divertiremo un sacco al giardino zoologico, Morphol! Sììììì! Mila, Morphol! I banditi hanno trasformato gli animali in giganti! Oh, no! Dobbiamo recuperare lo zapper! Morphol, trasformati in un supereroe! Ah! Non è divertente, Barty? Ma cosa succede? Che cosa strana? Oh, oh, oh! Aiuto! Restituitelo zapper, banditi! Non ci pensiamo nemmeno! Jorn, dai, zappali! Oh, oh! Forse non è stata una buona idea! Ci rivedremo! Già! Perfetto! E adesso occupiamoci degli animali! Guarda! C'è il pinguino! Sistemato! Sistemato! Ehi, siamo qua! Ottimo! Ma... Ma... Cosa? Oh, no! Adesso siete troppo piccoli! Ma siete sempre fantastici! Papino! Guardami! Non vedo dove sei, Mila! Guarda in alto! Ciao! Morphle e Mila, i miei supereroi! Orphle vuole giocare! Orphle, che cosa hai in mente? Orphle super vestito! Orphle! Sì! Adesso siamo tutti quanti dei supereroi! Prendiamo questa giornata magica! Oh! Ho avuto un'idea! Possiamo fare una gara! Morphle sfida Orphle! Orphle sfida Morphle! Il primo che raggiunge la cima del monte, vince! Pronti? Partenza! Via! Orphle, fermo! Oh! 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 Oh, no! Sono in testa loro! Saltiamo! Oh! Cospita! Sì! Cosa? Morphle, questo non si fa! Ben fatto, Morphle! Non sono mai stata così forte! Credo di conoscere una scorciatoia! Giriamo di là, Morphle! Siamo vincendo noi, Orphle! E vai! Orphle, fa spuntare delle ruote un jetpack per superare il poste! Sì! Morphle, metti le ali così arriviamo in volo alla montagna! Morphle, trasforma! Morphle, troppo stanco! Stanco anche Orphle! Morphle, vince! Io penso che siamo pari! Evviva! Orphle non vince! Vinciamo tutti! L'importante non è vincere! L'importante è divertirsi tutti insieme, giusto? Già! Ogni giornata è una giornata magica con un animale magico! Oh, due! Nuvola è così carina! Vedrei che vincerà il premio come pecora più soffice, Felipe! Lo spero proprio! Mila e Morphle, la potreste spazzolare mentre penso ai maiali? Certo! Lei adora giocare nel fango, ma non permetteteglielo! Deve rimanere bella, soffice e pulita! Ehi! Torna qui! Morphle, trasformati in un cane pastore! Benvenuti al concorso per la pecora più soffice di Pettisburg! Sì! Che vinca il migliore! Oh, no! Nuvola! Torna indietro! Mi dispiace! Io so come recuperare tutte le pecore! Morphle, trasformati in un vestito da supereroe! E Orphle, trasformati in un vestito da supereroe per Felipe! Supereroe! Go! Alla ricerca delle pecore! Ma come funziona? Eccone una! Non dare fastidio al mio cagnolino! Pecorino! Pecorino! Non farti sentire, Orphle! Le pecore non amano il chiasso! Oh, ferma! Oh, ferma! Cuore! Eccone un'azovina! Eccola là! Morphle, dobbiamo salvarla in fretta! Il vincitore del concorso per la pecora più soffice di Pettisburg è... Il vincitore è... Nuova! Guarda, Morphle, si fa così! Oh! Anche Morphle, anche Morphle! Niente, bolla! Non preoccuparti, Morphle, prima o poi ci riuscirai! Però mai bene come questo piccoletto! Lui è Boba, un nuovo animale magico! Boba adora fare le bolle! Direi che ribolla di contentezza quando le fa! Wow! Visto? Sembra divertente! Oh, sì! Boba, siamo un po' troppo in alto! Non riesco a uscire! Morphle, trasformati in qualche cosa di grosso! Ah! Autocarro! Ora Morphle, salva Mila! Ma Mila? Oh! Oh-oh! Ma che sta succedendo? Oh, no! Aiuto! Voglio scendere! Morphle, arriva! Oh! Oh-oh! Nooo! Oh! Oh, no! Baba! Oh, no! Che cosa? Oh, no! C'è un'automobile che piove dal cielo! Oh, tesorino! Oh! Eccoti qua, Baba! Ascolta, non puoi racchiudere tutto quanto dentro alle tue bolle! Stai causando un sacco di problemi! Non nella mia città! Baba! Morphle, puoi far scoppiare la mia bolla? Oh! Salvo! Grazie, Morphle! Ho visto Mila! Io credo che sia volata di là! Oh, no! Oh, oh! Mila! Mi hai salvata! Grazie, Morphle! Prego! Ottimo! Piuttosto che volare in una bolla, meglio andare sulla mia volante! Ascolta, la prossima volta che ti scappa di far bolle, avverti così scappiamo anche noi! Cosa? Ti ringrazio, Morphle! Sei davvero molto gentile ad aiutare sempre chi ha bisogno di una mano! Orphle, aiuta anche lui! Ti prego, torna giù, Mr. Posey! Morphle, mi puoi aiutare? Mr. Posey è bloccato su quell'albero e io non vedo l'ora di riabbracciarlo! Riusciresti a riportarlo da me? Non era questo che volevo dire? Facci scendere! Se non aveste rubato la mia macchina della polizia, sareste già in galera a quest'ora! Ma a noi non importa! Già! Morphle! Per fortuna sei qui! Mi aiuti a portare i due banditi alla stazione di polizia? Ok! Oh no! Cosa? Morphle! Aspettami! Banditi in stazione di polizia! Ciao! Non ci ha portati dritti in galera, Stein! Sì! Scappiamo via di qui! Oh! Ehi, Morphle! Puoi aiutarmi a sollevare queste casse? Sono davvero pesanti per me! Oh! 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 Motherfle! Oh! 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 Che cosa è successo? Il tuo piccolo amico russo mi ha messo qui sull'albero ed è scappato! Non ci credo, è impossibile! Morphle non ha fatto questo! Io l'ho visto, sono certa! Morphle, mi vuoi dire dove hai lasciato i banditi? Non abbiamo nemmeno visto i banditi! Ma poco fa ti ho detto di portarli alla stazione di polizia, Morphle! Corriamo subito a catturarli! Morphle, trasformati in un robot! Oh, accidenti! Il tuo scherzetto è già durato abbastanza, Morphle! Per favore, riporta giù le casse immediatamente! Morphle, è stato con me tutto il tempo, papà! Dici davvero? Ma a me è sembrato proprio Morphle! Ed era anche rosso come Morphle! Tranne che per quelle due macchiette verdi! Macchiette verdi? Ho capito ora! È Orphle! Dobbiamo andare a fermarlo, Morphle! Ehi, ciao Morphle! Potresti aiutarmi a mettere un po' in ordine? Guarda, Morphle! Morphle si è colorato di rosso per essere come te! Oh, no! Che ne dici di lavarlo, Morphle? Trasformati in un camion dei pompieri! Oh, sta' attento, Morphle! Quello non è Morphle! È Orphle! Perfetto! Adesso sei di nuovo verde e non potrai più ingannare nessun altro Orphle! Ti ringrazio, vero, Morphle! Orphle, tornerà! Morphle, trasformati in una grande scavatrice! La nostra gara di palloncini d'acqua sulla spiaggia e i castelli di sabbia sta per cominciare! Bambini? Contro genitori! Cominciate a costruire i castelli di sabbia! Adesso! I castelli sono fatti! Ora, fuori palloncini pieni d'acqua! Il castello è perfetto! Vinceremo senz'altro! È ovvio, sono solo bambini! Vinceremo senz'altro! Davvero incredibile! I bambini vincono il primo premio! Sìììì! Congratulazioni, piccoli! Ci avete battuto alla grande! Andiamo a giocare nel nostro castello! Ora posso ottenere io il premio, Morphle! guarda pirata phil c'è un tesoro la e allora e allora noi siamo dei pirati pirata phil e qual è la cosa che amano i pirati prova a pensarci i tesori ma quelle chiusi in un castello di sabbia gigante è vero però noi abbiamo il cannone a palloncini d'acqua facciamogliela vedere amici oh oh no abbiamo terminato i palloncini dobbiamo riuscire a trovarne degli altri in fretta morfol scava una galleria da cui possa uscire mentre tu rimetti a posto il nostro castello io vado a prendere i palloncini d'acqua papà ci servono altri palloncini pieni d'acqua i pirati hanno attaccato il nostro castello mi spiace ma non abbiamo più palloncini però potremmo riempire questi d'acqua giusto e anche questo mi spiace ma non mi spiace ma non abbiamo più mi spiace ma non 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 mi spiace ma Pirata Phil, presto carica il cannone! Sì, Agostina ha detto che ha bisogno di qualcuno molto forte! Per portarle tutti gli ingredienti per la sua torta! Torta? Ecco la lista di quello che serve, Morphol! Ma... oh, tu sei Orphol! Papà ha mandato te al suo posto! È roba pesante, quindi... Forse! Ciao, ciao, zia Agostin! Siamo qui per andare a farti la spesa! Ho già dato la lista a Orphol! Oh, oh! Orphol che fa la spesa per zia Agostin! Andiamo a controllare che cosa combina, Morphol! Vuole uova! Vuole latte! Latte preso! Preso farina! Salve, Mila e Morphol! Sono felice di vedervi qui! Ciao, Felipe! Che succede? Mentre davo il cibo ai maiali, qualcuno ha attaccato la fattoria! Oh! Bravo, grande investigatore Morphol! Penso che Orphol sia stato qui e che abbia preso gli ingredienti per la zia Agostin! Rimediamo noi! Morphol, trasformati in una gru e aggiusta il pollaio! Morphol, trasformati in un cane pastore! Morphol, trasformati in una spazzatrice! Così puoi spazzar via tutta la farina! Ottimo lavoro! Grazie, Mila e Morphol! Siete i migliori! Serviva qualcos'altro? Farina! Ma ormai l'abbiamo spazzata via! Non tutta, sapete? Ne ho due sacchine il granaio! Ma sono molto pesanti! Morphol, adesso trasformati in un robot! Come due robot! Bene, chi di voi ha i miei ingredienti? Il sindaco sta aspettando che gli porti la torta! Devo iniziare a cucinarla immediatamente! Oh, Orphol! I miei ingredienti! Questo è un vero disastro! Non l'ha fatto apposta, zia Augustine! Orphol voleva solo aiutare! Sarà anche vero, ma ora come faccio la torta del sindaco? Oh, Mila cara! Quelli bastano per due torte! Torta! Oh, chi si vede? Mila e Morphol! Buongiorno, Belli! Sarebbe questo l'animale magico che ha il potere di far viaggiare nel tempo? Esattamente! Sei proprio un ragazzino sveglio, sai? Se parlate di fratello Time, è lui! E lui è Telefox! Siamo noi! Grazie dell'informazione! Oh no! Sono i banditi! Portaci nell'era dei dinosauri, fratello Time! Così potremo rubare un uovo di dinosauro! E quando il piccolo uscirà, tutta la città sarà messa sottosopra! Oh no! Dobbiamo riportare indietro Winston e Yorn prima che si procurino un uovo! Dove saranno Winston e Yorn? Sì! Eccoli là! Guarda, ho l'uovo di dinosauro! È tutto mio! Sono in pericolo! Presto, Morphol! Trasformati in un robot! Così possiamo salvarli! Aspetta! Lasso! 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 Stai attento con quell'uovo! Morphle, trasformati subito in un elicottero! Morphle, trasformati in uno pterodattilo! Morphle, trasformati in un T-Rex! E che sia bello grosso! Ben fatto, Morphle! Questo lo prendo io! Eccolo qua! Ehi, quello è mio! Oh, giusto in tempo! Riportiamo i banditi alla nostra epoca! Eccoci qua! Winston, gioca! Non voglio più vedere dinosauri in vita mia! Oh no! È terribile! Il costruttore Lorenz e il meccanico Joe stanno demolendo la città! Ma per quale ragione lo fanno? Non si demolisce nella mia città! Colpiscilo col raggio ipnotico, Yorga! Forza, ora seguici! Sì, signore! Morphle, trasformati subito in un robot gigantesco! Devi impedire che Lorenz e Joe continuino a demolire la città, Morphle! No, Morphle! Aiutaci anche tu a demolire! Ok, gentili signori banditi! Oh no! Morphle è diventato malvagio! È incredibile! Grazie a questo raggio ipnotico, in città tutti saranno costretti a fare quello che noi gli ordiniamo! Oh no! Papà, dobbiamo inseguire subito quei banditi! Hanno ipnotizzato Morphle! Ma come potremo fermarli se Morphle non fa più quello che gli dici? Ok, direi proprio che ci siamo, Yorna! Sono certo che funzionerà, Stein! Mammina! Ci sono due persone qui fuori che vorrebbero dirti qualcosa! Spero che sia qualcosa di importante, figlioli! Non ho tempo da perdere con le vostre sciocchezze! Quella banca non si rapinerà certo da sola! Su, diglielo, diglielo! I suoi figli sono i banditi più cattivi e in gamba che io abbia mai dovuto affrontare nella mia città! Loro sono due cattivoni davvero cattivissimi! Ma di che cosa state parlando? I miei figli non sono mai riusciti a fare i cattivi! E ora hanno anche portato la polizia a casa mia! Accidenti! Siete dei buoni a nulla più buoni a nulla del solito! Ma! Mamma! Dici almeno per una volta che siamo dei bravi cattivi! Sì! Dici che sei orgogliosa di noi! Ora basta, banditi! Vorresti sfidarci? Ma sei solo una bambina in difesa senza il tuo piccolo amico rosso! Coraggio, amici! Acciuffateli! Cosa? Cosa? Perché queste persone fanno quello che gli dici? Li ha ipnotizzati tutti, vero? Nessuno dovrebbe fare qualcosa perché lo avete costretto! Dovrebbe farla solo perché è d'accordo con quello che gli dici! E ora, per aver demolito la città, voi due ve ne andrete per un bel po' in prigione! I miei figli stanno per andare in prigione! Sì, mamma! Veniamo sempre arrestati alla fine, tutte le volte! Oh, figlioli! Vuol dire che siete davvero due cattivoni se andate in prigione! Sono molto orgogliosa di voi, ragazzi! L'hai sentita anche tu, Stein? Sì, e sono emozionato! Come sono felice! Ogni cosa in città è di nuovo al suo posto! Coraggio, ragazzi! È l'ora di andare a dormire! Ma no, papà! Noi non vogliamo andare a dormire! E poi ricorda, bisogna fare qualcosa solo se stai d'accordo con chi lo dice! Questo è vero! Ma i bimbi piccoli fanno quello che dice il loro papà! Quello che dice il loro papà! E la loro mamma! E la loro maestra di scuola! E anche la polizia! E i loro nonni e le loro nonne! E vediamo anche... Qualcuno ha portato via due ruote del mio carro attrezzi! Morphle, trasformati in un altro carro attrezzi! Oh, grazie mille, Morphle! Oh, guardate! Hanno rubato tutte le ruote! Oh, no! Guarda, ecco là i ladri di ruote! No, no, no! Pensa al fuoco! Oh, grazie mille! Ah, cipicchia, non ci sono le ruote! Ora come facciamo ad andare all'ospedale? Ehi, Mila e Morphle! Grazie mille! Non nella mia città! Oh! Hmm... 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 Prendeteli, mille Morphol! Ci ha beccati! Ma allora ci porta in officina! Oh no! Buongiorno a tutti! Siete pronti a viaggiare sulla macchina del tempo con noi? Stiamo per andare ad esplorare l'era in cui vivevano i dinosauri! Oh, dinosauri! Ci sono moltissime diverse specie di dinosauri e oggi cercheremo di studiarle tutte! Morpho, felice! Eccoci ragazzi, siamo nell'era dei dinosauri! Guardate! Oh no! Quelli sono dei velociraptor! I velociraptor sono dei dinosauri piccoli ma molto pericolosi! Oh! Per tutte le provette, che paura! Ho rischiato grosso! Grazie mille, Morphol! Morphol! Forza! Trasformati in un Gallimimus! Il Gallimimus era uno dei dinosauri più veloci esistenti al mondo! Sei stato grande, Morphol! Morphol! Guardate chi c'è laggiù! Quello è un branco di argentinosauri! Sono dinosauri enormi! Ma mangiano soltanto piante! Oh no! Dobbiamo andare a salvare quell'uovo, Morphol! Trasformati in un obteranodonte! Ce l'hai fatta, Morphol! Adesso dobbiamo trovare la madre dell'uovo che abbiamo salvato! A me non sembra un uovo di argentinosauro, sapete? No! Guardate! Lì ci sono uova di argentinosauro e sono del tutto diverse! Continuiamo a cercare! C'è un triceratopo! I triceratopi hanno tre corni molto affilati! Un dolcissimo cucciolo di triceratopo! Ma guardate! Quelle uova sono diverse dall'uovo che abbiamo salvato! Dunque questo non è neanche un uovo di triceratopo! Molto interessante! È un vero pteranodonte! Sta cercando di allontanarci dalle sue uova! E guardate! Quelle uova di pteranodonte non somigliano affatto a quello che abbiamo noi! Morphol, voliamo via da qui! Poi, presto! Quelli sono anchilosauri! Se colpiscono con la punta della loro coda possono fare molto male! Guardate il guscio del loro uovo! Anche quello è diverso da quello che abbiamo salvato! Oh, coccodrilli! Com'è possibile che ci siano dei coccodrilli nell'era dei dinosauri? In realtà i coccodrilli sono una specie molto antica e perciò esistevano già nell'era in cui c'erano i dinosauri! Wow! Però guardate! Anche le uova di coccodrillo sono diverse da quello che abbiamo noi! Oh! Comincio ad avere paura che non troveremo mai la madre di quest'uovo! Wow! Quello è uno spinosauro! Vuole attaccarci! Scappiamo! Morphle, trasformati in un T-Rex! Uno spinosauro è comunque parecchio più grande di un T-Rex! Non credo che abbia voglia di mangiarci, ma che cosa vorrà allora? Ho capito! Vuole avere il nostro uovo! Lo spinosauro è proprio la madre di questo uovo! Ho avuto molta paura! Grande intuizione, Mila! Che fai fai! gelato! non li lenticarti che se mangi troppo gelato per un po' di tempo perdi il potere di trasformarti ho scordato il borsellino gelato! pagalo zio Yorn cosa? veramente non ho un soldo, Winston io pensavo che li avessi tu se non sei in grado di pagarmi il gelato lo dovrai rubare al gelataio io lo voglio capito! ehi, attento il camioncino sta spargendo salsa al cioccolato dappertutto oh no, che disastro Mila! Mila! fermi! ladri! Morphle, trasformati in un... Mila! gelato! papà! c'è qualcuno che ha sete? ho portato dell'ottimo succo di mela dalla pattoria papà, i banditi hanno il camioncino dei gelati e Morphle era a bordo oh no, corriamo a salvarlo ci serve l'aiuto di un animale magico Grav! eccolo! lui solleva le cose eccoli là Morphle, trasformati in un elicottero oh no Morphle non trasforma oh, Morphle mangiato troppo gelato ehi, ascolta Grav sollevaci per farci superare il traffico resisti Morphle arriviamo Grav! sollevaci al di là del fiume non c'è più gelato il gelato è esaurito oh no non è rimasto neanche un gelato e tutti i bambini sono così accaldati io ho avuto un'idea papà, possiamo dividere il succo di mela con loro? sicuro bella trovata Morphle, trasformati in una macchina per granite chi vuole una bella granita alla mela? ha un gusto davvero delizioso sono certo che d'ora in avanti la offrirò anch'io ciao, Mila e Morphle guardate le mie scarpe a rotelle fortissime venite con me a giocare al parco voglio provare nuove acrobazie possiamo andare, papino? certo non scordate i pattini a rotelle ci vediamo ma io non li ho dei pattini a rotelle posso prestarti un mio vecchio paio dovrebbe essere qua evviva! eccoli i pattini in linea di Louis Lightspeeder quanto li adoravo grazie, papà sono bellissimi piano, piano peccato un giorno li userai ma per ora sono grandi ho avuto un'idea posso utilizzare la magia di Incra per farmi crescere abbastanza perché i pattini mi vadano bene Incra fammi diventare grande funziona grazie Mila, grandi già ma troppo grande per i pattini di papà si può vedere il parco da qua in alto c'è Enzo essere grandi può essere utile zio Yorn guarda sono Mila e Morphol sono giganti io penso che un animale magico abbia fatto crescere Mila voglio quell'animale zio e lo voglio subito così prenderò un gelato e lo farò diventare enorme oh scusami essere grande non è bello se non posso giocare con gli amici Mila e Morphol mi serve il vostro aiuto i banditi stanno combinando dei guai in città stanno facendo diventare tutto enorme oh anche tu devono aver preso Incra Morphol trasformati in un'auto da corsa oh ah fatto bravo andiamo in città stanno facendo oh 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 ecco Incra ti ha trovato Morphol trasformati subito in una gabbia per catturare i banditi ehi zio Yorn aiuto sì non è sempre divertente essere grande forza andiamo a vedere Enzo che fa le acrobacie sui pattini adesso oh 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 questo è un omaggio dell'agente di polizia Freeze per ringraziarti per aver preso i banditi guarda scarpe a rotelle è della mia misura io sono il supereroe più forte del mondo infatti posso sollevare quest'auto senza problemi Morphol proviamoci anche noi io ho moltissimi poteri e guardate so volare sì aiuto 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 ma chi voleva soltanto giocare stia tranquilla non morde voglio che lo porti subito lontano da me vada immediatamente via col suo cane signore che esagerazione siete stati meravigliosi supereroi chiedevo ringraziare per l'aiuto come vi chiamate io non le diremo i nostri nomi perché siamo i supereroi mascherati e vogliamo che le nostre identità restino segrete restituiti trofei furfanti sono i primi trofei della nostra vita non ve li rideremo sì adesso sono ufficialmente il ballerino di danza classica più bravo della città d'accordo va bene potete riprendervi i vostri trofei nonno tenete pure quello che ha in mano vediamo dice i più bravi a farsi catturare siamo campioni di qualcosa finalmente eccoci qui in diretta con le persone che hanno salvato i trofei della città dai banditi abbiamo una sola domanda da farvi chi siete voi non possiamo dirvi i nostri nomi perché noi siamo i supereroi mascherati e le nostre identità resti io sono Troy io sono April Morpho ehi ma questi siete tu e la zia Augustine esatto Mila d'inverno andavamo sempre alla pista di pattinaggio Morpho piace pattinare deve essere molto divertente facciamo una pista di pattinaggio in giardino così pattineremo anche noi oh Morpho non pattina non puoi pattinare sui cubetti di ghiaccio Morpho dobbiamo riempire tutto di acqua e congelarla congela quindi ci serve un animale magico che congeli le cose ne conosco giusto uno apmo forte Morpho trasformati in un elefante così portiamo l'acqua necessaria da congelare bravissimo bravissimo forza riempi tutto di acqua ehi questo è un abito che si lava solo a secco ci scusi signor Vanderbuss oh oh Morpho risucchia l'acqua che c'è nel giardino del signor Vanderbuss Morpho vuole pattinare anche lui oh no Morpho trasformati in un robot per salvare Atmo Morpho sta usando la magia di Atmo per congelare tutto Morpho trasformati in un drago per sciogliere il ghiaccio col fiato infuocato nessuno può congelare la gente di polizia Frisa non nella mia città oh Mila e Morpho si può sapere cosa sta succedendo mi spiace zia volevamo fare una pista di pattinaggio Morpho l'ha rubato Atmo oh no eccoti qua Orpho perché hai congelato tutto quanto? Atmo è stanchissimo scusami tanto Atmo Orpho vuole più stanca lui se prometti di fare il bravo puoi aiutarci a costruire la nostra Orpho il pattino poi certo avvivo al lavoro Morpho trasformati in un elicottero sì pattino ops dimenticavo non hai pattini da ghiaccio quando hai parlato di pista di pattinaggio ho pensato che ti servissero questi erano i miei ma adesso sono troppo piccoli belli grazie zia Augustin ho visto che li indossavi in quella foto guarda mi vanno perfetti eccovi buongiorno mille Morpho cosa farete di bello oggi? per adesso stiamo giocando con il pupazzo preferito di Morpho Mr. Action Mr. Action è onesto e gentile ed è sempre disposto ad aiutare le persone in difficoltà eccetto se si tratta di cattivi ovviamente come il professore malvagio oh wow e se lo facessimo diventare reale per fargli aiutare davvero le persone della città? Mr. Action reale appoggialo a terra Morpho io sono Mr. Action il professor malvagio il mio nemico mi dia quel dispositivo oh va bene è stato facile oh no la città ha bisogno del mio aiuto Mr. Action dobbiamo riprenderci subito quel raggio laser Morpho sbrigati trasformati in un supereroe anche tu è un lavoro per Mr. Action stia tranquilla signora ci penso io fuori dai piedi prendilo Morpho lascia attraversare la signora grazie mille Morpho mi tira un po' la testa ed ecco il più cattivo oh 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 Questo lo prendo io, signori Lì c'è bisogno di Mr. Action Ma cosa? Ecco voi, onesti cittadini Ma insomma, loro sono i ladri cattivi Mentire è una cosa sbagliata, signor poliziotto Oh, no, loro no! Oh, accidenti! Mister Action! Aspetta! Oh? Perché tu hai in mano il professor Malvagio? Sei la sua complice? No, no, no! Questo è il professor Malvagio! Il professor Malvagio è solo un pupazzo! Come lo eri anche tu fino a poco fa, Mr. Action! Questo è il professor Rashid e non dovrebbe essere un pupazzo! Oh, no! Grazie per la spiegazione, piccola bimba mirtillo! Per tutte le provette, aiuto! Come faccio ora a combattere il professor Malvagio? Oh! Devo tornare a essere un pupazzo anch'io, ecco! Oh! Nessuno può fermarmi adesso! Mr. Action! Oh, no! Che sta succedendo? È già un bel po' che ci hai catturati! Sì, sì! Arrivo fra un minuto! Sì, certo! Hai visto? Un salame, sembra! Morphol, trasformati in un trenino con i binari! Forza, andiamo a prendere Sara con il nostro bel trenino! Ciao, Sara! Cosa stai facendo? Ciao, Mila! Ciao, Morphol! Sto uscendo per andare a trovare mio zio perché devo portargli una cosa molto preziosa! Allora ho un'idea! Potremmo usare Morphol e il trenino per portarti da lui! Sì! Sarà una bella avventura! L'hai sentita, vero? Quella cosa molto preziosa presto sarà tutta per noi! I grandi banditi della ferrovia! Oh, no! Guarda! Morphol, trasforma i binari in un cerchio delle montagne russe! Mila, Morphol e Sara! Sono veramente felice di vedervi! Che ne direste di portare questi simpatici pinguini a trovare i loro amici al delfinario col vostro meraviglioso trenino? Ma certo! Saltati a bordo del nostro trenino, amici pinguini! Guardate! Ciao, Mila, Morphol e Sara! Sapete, sto andando a vedere la strepitosa gara di camion della città! Perché non salti a bordo? Possiamo darti un passaggio! Dici davvero? Vi ringrazio! Vi ringrazio! Oh! 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 Siamo quasi arrivati da tuo zio Sei contenta, Sara? Non vedo l'ora di dargli quel regalo È una cosa molto preziosa Che meraviglia! Abbiamo messo le grinfie su quella cosa preziosa! Sietto! Ciao, Sara! Adesso voi due verrete con me Niente furti nella mia città Sono un cattivo e terribile pirata! Perciò dammi tutti i tuoi tesori! Io sono un enorme e feroce dinosauro! I pirati non mi fanno per niente paura! Wow! Avete proprio dei costumi magnifici! E tu quale costume hai messo, Mila? Io ho una maglietta magica! È Morphle! Wow! Morphle, voglio volare! Morphle, solleva il baule dei costumi! Morphle, voglio che tu abbia quattro braccia! Aiuto! Due banditi sono stati qui! Hanno rubato tutti i miei vestiti! Non preoccuparti, papà! Abbiamo moltissimi vestiti nel nostro baule dei travestimenti! Allora, vediamo... In quale modo potremmo vestire papà? Lo sai? Stai davvero benissimo, papà! Oh no! Sono i banditi delle feste in maschera! Stanno rubando i vestiti del poliziotto della città! Non siamo più i banditi delle feste in maschera! Adesso ci chiamiamo banditi della moda! Ruberemo tutti i vestiti che vedremo! State attenti! Costume! Hai ragione! Dovremmo dare anche al signor poliziotto uno dei nostri costumi! Ecco qui, signor poliziotto della città! Fantastico! Ora inseguiamo i banditi della moda! Dobbiamo subito impedire che rubino altri vestiti in giro! Inseguiamoli, Morphle! Alcoli là! non riuscirete a fermarci presto nessuno di voi avrà più dei vestiti da mettere oh no! l'elicottero sta precipitando Morphle, puoi usare le tue forti braccia per prenderlo dove sono finiti? li acciufferò questa volta non si preoccupi, signor sindaco abbiamo un travestimento anche per lei ti ringrazio, Mila è solo che adesso però dovete fermare quei banditi la città ha bisogno di voi ecco un bandito! ora lo catturo! dobbiamo pensarci noi, Morphle! usa le tue ali! è tutto inutile, sono troppo veloci per noi troppo veloci? ma non ci possiamo arrendere questa città conta solo su di noi non riuscirai a sconfiggere i banditi della moda e adesso abbiamo anche catturato il tuo piccolo amico rosso sciocchi banditi! Morphle, usa le tue forti braccia! Morphle, usa le tue ali! adesso andiamo a consegnarli alla polizia non ci posso credere, ci hanno catturato anche stavolta che vero! molto ben fatto, Mila e Morphle avete catturato i banditi e finalmente tutti riavranno i loro vestiti sì, il sindaco vi darà una medaglia ma insomma, dov'è finito il sindaco? grazie per aver trasportato i miei libri, Morphle Morphle, eccoti! mi serve aiuto! Swiper Bugs ha rubato i miei occhiali e poi li ha nascosti dentro alla cuccia i miei occhiali! Morphle, stanco! Morphle deve sempre fare tutto da solo! mi dispiace, Morphle oh, vorrei essere capace di fare quello che fa Morphle così lui potrebbe riposarsi aspetta un attimo, Mila la tua è una grande idea questo è Glitterbug può trasformare gli umani in animali magici per una giornata intera caspita! allora può trasformarci in Morphle? wow! Mila, trasformati in una scimmia ora che anche noi possiamo trasformarci tu ti puoi prendere il meritato riposo, Morphle mi trasformerò in un razzo e ora com'è che si vola? hai visto anche tu, Skyn? se ci prendiamo quella bestiolina diventeremo banditi trasformisti! i banditi! Morphle, trasform... oh, posso trasformarmi io! Mila, trasformati in un'auto da corsa! è troppo divertente! oh no! aiuto! però non è facile salta, salta! com'è che mi fermo? devo riuscire ad andare più veloce wow! oh 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 così non prenderemo mai i banditi trasformiamoci in un'altra cosa, papà bravissima! guarda me! ma cosa? oh 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 papà, no barca! robot! oh, ci provo fatto! Morphle, ci arrangiamo noi! tu eri stanco e avevi bisogno di riposare ricordi? Morphle, no stanco! lavora tutti insieme! non ci potete più sfuggire, banditi! non ne abbiamo bisogno Glitterbug trasforma anche noi! oh 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 oh, non siamo Morphle, stai! no? ma siete animali magici! oh no! scappa! riecco il nostro Glitterbug evviva! adesso giocare tutti insieme buona idea allora gara di volo oh 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 i tuoi denti sono in perfette condizioni lo credo glieli spazzolo due volte al giorno! Ora possiamo andare da un altro animale magico, dottore! Certamente, Mila! Trasformati in un'ambulanza, Morphol! Il dentista degli animali magici sta arrivando! Sei pronto per il controllo dentale, piccolo? Nessun problema! È tutto a posto! Ora restano da visitare solo gli animali magici del negozio di animali, giusto? Esatto! Poi avremo finito tutti i controlli! Partenza, Morphol! Molto bene! Il prossimo! Allora, vediamo un po'... Accipicchia! Hai una piccola carie, tranquillo! Non è niente di grave! Te l'ha giusto con questo! Ehi! Ma dove scappi? Oh no! Si è spaventato! Lo dobbiamo fermare prima che finisca col farsi male! Morphol, trasformati in un cavallo! Fermo! Non paura! Dentista non fa male! Oh, provi a mettere via quello! Ups! Hai ragione! Trasformati in un dragone! Smetti di correre! Non c'è niente di cui aver paura! Oh, accidenti! Come facciamo a fermarlo? Ci serve qualcosa che sappia nuotare molto veloce e che sia abbastanza forte da fermare quella barca! Morphol, trasformati in un coccodrillo! Ora, ferma la barca, Morphol! Mi spiace di averti fatto paura, ma è molto importante che curiamo subito la carie! Lo so che adesso non ti fa male, ma di certo te ne farai in futuro se non lasci che il dottore te la curi! Va bene, Morphol! Puoi lasciarlo andare ora! Morphol! Morphol! Ma tu non hai paura del dentista, vero? No! Torniamo all'ambulatorio! Rimessi a nuovo! E, visto che siete stati così coraggiosi, un regalino! Sì!